VLR avvolgibili, monoblocchi e cassonetti termoisolanti, avvolgibili, motorizzazioni. VLR ti aspetta a Piovene Rocchette per un preventivo gratuito. Rieccoci insieme pronti per un nuovo aggiornamento delle condizioni meteorologiche riguardanti il nostro territorio provinciale. Prima però andiamo a vedere quale sarà la situazione generale che ci aspetterà nei prossimi giorni. Buone notizie, l'instabilità che ha caratterizzato gli scorsi giorni inizia ad abbandonarci, lasciando spazio ad un tempo più stabile e soleggiato ovunque. Il tutto sarà possibile grazie ad una rimonta dell'alta pressione estesa sull'area del Mediterraneo. Ma scendiamo più nel dettaglio con le previsioni per giovedì. La mattina ci sveglieremo con un cielo da poco nuvoloso a sereno che pian piano ci regalerà sempre più la presenza del sole. In questa fase noteremo però una lieve diminuzione dei valori minimi. Proseguendo nel pomeriggio, la giornata continuerà ad essere caratterizzata dal bel tempo sulla pianura, mentre qualche annuvolamento di tipo cumuliforme potrebbe accumularsi, coprendo il cielo del comparto montano. Infine, giovedì 21 maggio si concluderà con un cielo prevalentemente libero da nubi, con al massimo qualche possibile velatura di passaggio ad alta quota. Segnaliamo inoltre, per buona parte della giornata, una ventilazione di debole entità e di direzione orientale. Diamo ora voce alle temperature. Come già anticipato, le minime tenderanno a calare lievemente. Le massime invece non subiranno variazioni importanti, agirandosi dunque tra i 17 e i 26 gradi. E anche per oggi siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento.